Ehi ragazzi! Ma che cazzo! Voilà! Mi sono permesso di portare un po' di gioia in questa topaia infernale! Non c'è bisogno di ringraziarmi, lo so, sono generoso! E secondo te noi dovremmo ringraziarti per averci portato dell'erba in un vaso? Oh, questa non è solo erba! Questa è speciale! Annusala! A me non pare abbia nulla di speciale! Ma che strano! E tu che mi dici, Aski? Ragazzi! Posso vedere i suoni! Posso sentire i colori!